A prezzo, a prezzo, a prezzo la citazione, una citazione marxista, a ognuno secondo i propri mesi, a ognuno secondo le proprie esigenze, da ognuno secondo le proprie possibilità, però voglio io sdrammalizzare questa, allora il bovimento 5 Stelle ha una sua coerenza, io questa gliela devo riconoscere, anche quando c'è aria di spaccature. Uno vale uno, è ognuno per i cazzi suoi, mi sembra la sintesi, poi qualcuno andrà a sinistra, qualcuno andrà a destra, qualcuno rimarrà lì, chi ne so, mi presti i banchi a rotelle così non vanno più la voce. Posso spezzare una lancia a favore del mio movimento 5 Stelle, il movimento 5 Stelle ha un grandissimo merito, lo vedo e lo dico perché l'ho vissuto in prima persona, io mi sono molto impegnata nella vita, ho provato, come dicevamo prima, a ciascuno secondo i propri meriti. Io dal movimento 5 Stelle ho avuto l'opportunità anche di entrare in politica, grazie al mio curriculum, a quello che avevo fatto. Non so quante altre forze politiche oggi sono in grado di avere anche questo slancio, se vuole, di generosità, fra virgolette. Io non posso che ringraziarlo al movimento 5 Stelle per questo.